Salve, perché iscriversi a certi diritti? Perché non iscriversi a certi diritti? Ma dice perché certi diritti, se sono certi diritti, io ce l'ho già, che me ne frega a me, io non mi scrivo. No, ti devi iscrivere perché non tutti ce li hanno e noi stiamo lottando perché tutti li abbiano i diritti, certi e riconosciuti, per tutti, non solo per alcuni, come adesso. È chiaro? Iscriviti a certi diritti.